Ciao a tutti, sono Erika! Oggi volevo parlarvi di una nuova serie manga che ho iniziato e sto parlando di One Week Friends di Machiazuki questo è il primo volume di 7 e in pratica si tratta di un manga shoujo però l'ho trovato molto diverso rispetto a quelli che ho letto negli ultimi anni sia per lo stile di disegno che è un po' diverso mi ricorda un po' quello di... come si chiamava? oddio non riesco mai a riconormi col nome poi la Madoka Magica scusatemi se ho invertito le parole ma è troppo complicato quel titolo, è troppo lungo in ogni caso mi ricorda un po' quello stile di disegno lì, soprattutto per gli occhi e comunque è un'altra cosa particolare, a parte la storia che parla di appunto una ragazza e un ragazzo che sono in classe insieme questo ragazzo osserva la ragazza da diverso tempo non mi ricordo i nomi perché sono troppo complicati comunque questo ragazzo osserva questa ragazza da diverso tempo che se ne sta sempre un po' per le sue non ascolta gli altri, non è che non le ascolta però non ci fa amicizia però lui interessa lei per cui a un certo punto riesce a prendere coraggio finalmente chiede a questa ragazza di diventare amici e poi da lì iniziano a pranzare sul terrazzo della scuola e fanno amicizia l'unico problema è che lei non può in realtà affezionarsi perché ogni volta che ha dei ricordi piacevoli questi scompaiono dopo una settimana quindi ogni lunedì i due devono ritornare amici e questo è molto faticoso soprattutto per lei che deve cercare di ricordarsi le cose ma ovviamente non può se non scrivendosi le cose e per lui che comunque rimane un po' ferito magari da questa situazione per cui cerca di farle tornare alla memoria però ovviamente non è così facile come si può pensare ok, questa è la trama generale quindi avevo letto la trama sul retro e mi interessava per cui l'ho iniziato a leggere poi l'altra cosa particolare a parte il fatto che le prime due pagine sono colori ed era una cosa che non mi capitava di vedere da diverso tempo e poi l'altra cosa è come sono strutturate le vignette perché normalmente per esempio possono essere così anche se qua sono molto molto squadrate e invece normalmente nei manga sono magari anche non a casaccio però sono mischiate non sono così ben delineate ecco e poi quasi tutto il resto del manga è fatto con queste strisce di fumetto e sopra c'è il titolo in cui in pratica si risume l'argomento di quella striscia il che credo riprende un po' come erano i manga in origine perché se non mi ricordo male prima venivano fatti su delle strisce poi in seguito si sono voluti e sono diventati un po' dei fumetti comunque l'ho trovato un manga abbastanza originale mi piaceva l'idea e la lettura è scorrevole, molto gradevole e ci sono dei temi anche appunto toccanti perché ovviamente non ricorrarsi più dei propri ricordi positivi non è una cosa facile dover essere costretti a stare lontano dagli amici non poter avere neanche un amico perché sennò poi stai male e fai soffrire gli altri l'ho trovata un'altra cosa molto interessante per cui ve lo consiglio vivamente e basta, credo di non avere altro da dire ho pensato di fare questo video perché così mi potevo parlare di una cosa velocemente senza farvi un altro video lungo tipo 15 minuti come gli ultimi che ho fatto nelle ultime settimane spero che vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video non so ancora cosa farò perché è un periodo sempre un po' impegnativo con la scuola lo so che è tutto l'anno che lo ripeto però adesso tipo 15 verifiche in 10 giorni e mi devo veramente mettere sotto con lo studio c'è da spararsi non so nemmeno se riuscirò a dormire forse no, forse sì spero di sopravvivere fino al 2 giugno e fino ad allora devo rileggere 3 libri di scuola che erano quelli che dovevo leggere per le vacanze invernali però dato che non vi ho ancora parlato del libro di Shasha probabilmente ve ne riporlerò appena lo rileggo e questo è tutto per cui noi ci vediamo la prossima settimana ciao